12 finalisti per il Pegaso dello sport, il premio con la Regione Toscana assegna insieme a Coni Toscaneus il miglior sportivo dell'anno, una rosa nella quale la fa da padrona la compagine toscana che ha conquistato medaglia alle ultime Olimpiadi di Rio, capitanata dal fiorentino Niccolò Campriani, doppio oro nel tiro assegna e poi ancora Martina Batini, Argento nel Fioretta, squadra in Rachele Bruni, anche lei Argento nei 10 km di nuoto in acqua e libere tra gli olimpionici Lizza per il Pegaso c'è poi Gabriele Detti, due bronzi nel nuoto a Rio, Gabriele Rossetti, oro nel tiro a volo skit Chiara Tabani, Argento nella palla a nuoto e infine Simone Buti, Argento nella palla a volo e Marco Indocenti, altro Argento nel tiro a volo Quest'anno la parte da Leone la fanno gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, che sono molti che hanno portato alla Toscana risultati straordinariamente importanti e poi quest'anno abbiamo voluto premiare mettendo insieme nel mondo dello sport anche la parte delle politiche sociali e della solidarietà Nel premio Fair Play abbiamo premiato la Sancat e la Fondazione Tommasino Bacciotti che hanno fatto un torneo di mini basket con tanti bambini e tante squadre il cui ricavato appunto è stato destinato alla Fondazione Bacciotti Ci è sembrato un bel esempio da premiare come appunto modello di sport che mette insieme anche la parte dell'integrazione, del sociale e della solidarietà A contendersi la palma del miglior sportivo toscano ci sono anche Alessia Biagini, campionessa italiana di spada Alessio Cornamusini, vice campione mondiale di arrappicata sportiva, il regbista Francesco Menon, campione italiano di rugby con il Rovigo e Giada Cavataio, vice campionessa mondiale di pattinaggio artistico La premiazione si terrà il prossimo 14 marzo al Teatro della Compagna di Firenze un pomeriggio nel quale riceveranno riconoscimenti anche le federazioni sportive della Toscana Alla presentazione dei finalisti anche una nutrita rappresentanza del mondo del calcio da Moreno Roggi fino a Lorenzo Amoruso e la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antonioni